ragazzi questa è la bici che avete visto 9 velocità l'ho passata 11 velocità per un cliente rapporti 53 39 pacco 11 28 cambio 11 velocità ovviamente comandi 105 sempre 11 velocità deragliatore sempre 105 guardate che è cambiata e ditemi se secondo voi servivano sulle bici da corsa i gruppi elettronici come sempre nei commenti leggo di tutto e di più vi farò vedere come cambia questa bici letta addirittura si riesce a mettere il 53 28 come vedete scorre benissimo il cambio non è in tiro perché ancora ne ha vado a mettere la 39 ed è fluidissima non tocca ovviamente bisogna sapere la regolare perché se no non funzionerà mai così però la cambiata è velocissima si può salire ovviamente a tre a tre e le corone sono vecchie le corone non sono nuove quindi con una guarnitura nuova andrebbe ancora meglio va bene commentate sotto il video lasciate un like se il video vi è piaciuto iscriviti al canale